Buonasera da Latina, tifosi Rosanero dove il Palermo è appena arrivato nella sede del ritiro pre-partita. Domani la sfida contro la seconda forza del campionato allo Stadio Francioni. Questa mattina per il Rosanero la classica rifinitura mattutina con prove di schemi e situazioni di gioco in vista della sfida contro la squadra allenata da Roberto Breda. Intorno alle 17 la partenza da Punta Raisi per Roma a Fiumicino, quindi il trasferimento appunto a Latina. PalermoCalcio.it continuerà a documentarvi la trasferta dei Rosanero anche domattina con un servizio pre-partita ricco di informazioni in vista di Latina Palermo.